buongiorno a tutti benvenuti in questa domenica 26 di maggio ora del mezzogiorno un orario un po inusuale ma insomma recuperiamo la puntata di venerdì perché ero giustamente fuori sede per un evento oggi rimaniamo come sempre nella provincia passiamo da follonica a capalbio non mi dilungo molto nella presentazione perché il personaggio che porteranno meglio porteranno due personaggi i ragazzi del istituto secondario di primo grado di capalbio porteranno due personaggi come dicevo il primo samantha cristoforetti ecco perché non mi vorrei dilungare nella spiegazione nella premessa come faccio invece di solito perché ormai samantha a questo punto delle puntate avrete capito che è un po la nostra top player quindi diciamo il personaggio più studiato e più raccontato per cui sappiamo già molto e anche oggi scopriremo ancora di più magari faccio ascolto ovviamente insieme a voi le interviste poi farei una chiusura al posto della maestra poiché quella giornata lì c'è stato un piccolo imprevisto quindi la professoressa ha dovuto ha dovuto essere insomma era stato impegnato in un'altra cosa da risolvere quindi non ha potuto essere presente quindi faccio io una piccola chiusura così magari vi faccio una sorta di conclusione sul secondo personaggio invece perché è un personaggio molto interessante un personaggio che non è ancora uscito dalle tante interviste per cui insomma è anche piacevole e parliamo di maria sibilla merian ma comunque ne parliamo dopo io adesso direi visto che c'è una bella oretta supereremo l'ora di puntata quest'oggi perché abbiamo quasi un'oretta di interviste di considerazioni eccetera quindi vi invito ad ascoltarli con attenzione io li ascolto qua con voi in questa domenica e poi a fine puntata facciamo un recap finale quindi ascoltiamo adesso i nostri ragazzi bene buongiorno a tutti siamo qui in una nuova tappa siamo con l'istituto comprensivo del plesso di capalbio siamo qui con la scuola secondaria di primo grado e abbiamo già davanti due speaker perché oggi giocheremo a fare questa radio io chiederei per prima cosa bene io chiederei a giacomo chi è samanta cristoforetti samanta cristoforetti è un astronauta pilota militare ingegnere e aviatrice bene adesso passiamo il microfono anche a cristian al quale chiedo dov'è quando è nata è nata a milano il 26 aprile 1987 ma è cresciuta ma lei in provincia di trento benissimo allora vi chiederei che cosa ti ha colpito cristian di samanta cristoforetti che comunque anche essendo un ingegnere è riuscita a diventare un'astronauta seconda te che esempio può dare per esempio ad altre al tuo compagno di classe che con l'impegno si può realizzare qualsiasi cosa anche per te così giacomo sì anche per me così perché dopo dopo il duro lavoro c'è sempre una cosa che vi ripaga quindi una soddisfazione o comunque una cosa che riuscirete a tenere o comunque a memorizzare per tutta la vostra vita tu la consideri un'eroina come personaggio sì perché una donna forte che è riuscita comunque con anche con gli uomini che venivano considerati più forti è riuscita anche a guadagnarsi un titolo di di grande prestigio possiamo dire perché comunque pilota spaziale lavorare nelle navicelle spaziali è un gran è un grande risultato bene io direi lo facciamo un bel applauso ai primi testi continuiamo con le interviste come abbiamo visto abbiamo il personaggio di samantha cristoforetti e ho qui davanti a me dante pronto col con il microfono ti chiedo come mai è diventata famosa lei è diventata famosa il 21 luglio 2014 perché è stata la prima donna europea andare nello spazio passiamo il microfono anche ad eduarda che ci ha raggiunto eduarda qual è il nome dell'agenzia spaziale in cui lavora il nome dell'agenzia spaziale in cui lavora samantha cristoforetti è l'agenzia spaziale europa chiamata esa anche voi chiedo che cosa ha fatto di così importante a samantha cristoforetti visto che l'avete studiata secondo me ha fatto ha fatto una cosa importante perché è andata è andata in uno spazio che lei non è un uomo è una donna che a quel tempo andare in uno spazio che sarà una donna è importante che col tempo secondo te ha trovato difficoltà all'interno di un contesto così difficile essendo una donna secondo me sì che ha avuto un contesto difficile andare andare nello spazio essendo una donna secondo te qual è stata la sua difficoltà più grande secondo me la la difficoltà secondo me secondo me è che lei era una donna secondo me tutti gli uomini la prendevano in giro perché era una donna che è andata allo spazio secondo te dante visto che parliamo di donne ingegneri eccetera come hai sentito dal tuo compagno secondo lui lei ha trovato difficoltà anche secondo te così secondo me no perché secondo me non è stata giudicata perché una donna perché già uno può perché uno non può giudicare gli altri per i propri sogni quindi secondo me non ha avuto difficoltà tu che sogno hai cosa vuoi fare da grande come sogno piacerebbe cucinare però il cuoco è un classico lavoro maschile quindi adesso iniziano un po di donne quindi se tu ti trovassi a lavorare in una cucina dove magari il tuo capo è una donna cosa pensereste ti darebbe fastidio non mi darebbe indifferente io lo troverai indifferente perché non mi dà fastidio cioè mi interessa se c'è qualcuno mi dice cosa deve fare così impari giustamente bene facciamo un bel applauso anche loro bene continuiamo adesso con la nostra conoscenza ulteriore di samantha cristoforetti abbiamo umberto voi non lo sapete ma nel fuori onda c'è stato un grazioso giochino divertente per cui lui è ufficialmente il nostro futuro sappiatelo così lo diciamo anche tutti gli ascoltatori allora umberto ti chiederei quando è che è iniziata la sua carriera allora la sua carriera inizia nel 2001 quando viene ammessa all'accademia aeronautica di puzzuoli come pilota militare dopo tre anni poi nella stessa accademia diventò capitano nel 2009 diventa astronauta e viene selezionata da tra oltre 8.000 astronauti e nel 23 novembre 2014 ha svolto la sua prima missione o primo lancio cosa ti ha colpito di lei mi ha colpito che tra 8.000 astronauti è stata scelta proprio lei tra così tante persone una donna che dici ma io non me lo sarei mai aspettato che una donna che fosse stata ammessa tra 8.000 astronauti però a quanto pare comunque c'è riuscita lei vuol dire che lei si è impegnata molto ha fatto capire alle altre persone che lei poteva fare grandi cose per meccanico astronauta o comunque per tutto il mondo secondo te le donne possono fare grandi cose in generale sì secondo me sì perché si vede in molti casi come una delle donne per esempio che è una grandissima donna è Franca Viola che è stata una tra le prime donne che ha rifiutato il matrimonio combinato e ha rischiato molto per quel diritto ma ha combattuto anche quindi secondo me lei è una grandissima donna bene vedi abbiamo già anche due esempi allora passerei il microfono anche a Manuel Manuel visto che torniamo a parlare della nostra Samantha ti chiederei magari se ci racconti che scuola ha frequentato allora Samantha ha studiato prima nell'università degli studi di Napoli Federico II poi nell'università di tecnica a Monaco e poi si laureò in ingegneria tecnica sempre in Germania e anche a te chiedo anche tu sei rimasto colpito dal fatto che è stata una donna ad andare nello spazio? sì molto perché il ruolo di astronauta anche nei film viene quasi sempre interpretato dagli uomini non dalle donne quindi mi ha colpito molto secondo te nella società di oggi uomini e donne sono trattati in modo uguale? sì in certi casi secondo te cosa potremmo fare per migliorare questa situazione? cambiare delle regole quali per esempio? per esempio che delle regole tipo tipo che le donne vengono pagate meno degli uomini secondo me non è una giusta regola beh questo sicuramente è una battaglia una lotta che si sta svolgendo già da anni bene io direi che possiamo fare un bel applauso anche a loro continuiamo a parlare due nuovi speaker sono arrivati in postazione o Giulia e Di Alessio direi di iniziare da Giulia quando è stata nello spazio la sua prima volta? ce la racconti? Samantha Cristoforetti nel suo primo lancio ha trascorso 369 giorni in orbita intorno alla terra a bordo della stazione spaziale ISS il nome della missione è Futura e visto che abbiamo qui anche Alessio Alessio sappiamo qualcosa della sua vita privata ci racconti anche tu qualcosa di lei? beh della sua vita privata sappiamo che Samantha Cristoforetti ha sposato Lionel Ferra un ingegnere aerospaziale francese che si occupa dell'addestramento degli astronauti delle European Space Agency anche conosciuta come ESA e con il suo compagno ha avuto due figli e li hanno chiamati Kelsey Amel che è femmina nata nel 2016 e Dorian Levy maschio che è nato nel 2021 quindi da poco solleviamo un tema giusto perché adesso stiamo parlando con i tuoi compagni abbiamo parlato di quanto ha sorpreso che un ingegnere fosse donna e quindi una donna nello spazio a te chiedo quando hai saputo che era un ingegnere ma anche una mamma? cosa hai pensato? io ho pensato che era stata una cosa abbastanza difficile per lei di occuparsi sia dei figli del lavoro che praticamente è difficile occupare dei figli uno nato da poco sia del lavoro in ingegnere aerospaziale e quindi è difficile mantenere la situazione però tu sei convinto che una donna possa fare entrambe le cose ed essere soddisfatta della sua vita? sì, secondo me anche una donna qualsiasi potrebbe fare grandi cose tipo appunto Samantha Cristoforetti che nel suo primo lancio secondo me i suoi compagni non credevano tanto che fosse stata tanta brava ma dopo i sei mesi quando è ritornata hanno visto che ha fatto grandi cose e è riuscita a fare tutte le missioni secondo me è stata una donna che ha fatto grandi cose passiamo al microfono anche a Giulia Giulia, visto che lui ha appunto detto che le donne sanno fare grandi cose a te chiedo che cosa ti insegna studiare la vita? cosa ti ha insegnato studiare la sua storia di Samantha? insegna che una donna può fare grandi cose anche se magari ha figli o ha delle difficoltà può riuscire a superarle e arrivare a un suo obiettivo allora visto che Samantha ha diciamo realizzato il suo sogno a te chiedo cosa vuoi fare da grande? qual è il tuo sogno nel cassetto? il mio sogno è diventare una veterinaria oppure una dottoressa ecco sono due lavori che diciamo che tendenzialmente fanno gli uomini se ti dicessero man mano che cresci no guarda Giulia non fare il medico non fare il veterinario vai invece resta a casa fai tanti figli e fai la casalinga cosa diresti? è una domanda reale succede? no nel senso qualcuno ha deciso questa cosa io ignorerei proprio e seguirei il mio sogno fino a raggiungere un obiettivo secondo te cosa potremmo fare per cercare di aiutare le donne nel avere la libertà? cambiare delle regole per esempio quali? tipo anche al giorno d'oggi chi resta a casa oppure con i figli diciamo curare la casa insomma c'è ancora un pochino da lavorarci bene fare un applauso anche a voi due grazie bene adesso abbiamo qui David che ci ha raggiunto David parlaci un po' di lei dimmi un po' quante lingue parla allora Samantha Cristoforetti nel tempo imparò a parlare cioè l'italiano che era appunto la sua lingua il russo il tedesco l'inglese e il francese però sta anche studiando il cinese tante lingue immagino perché insomma sulla stazione spaziale ci siano diverse nazionalità bene mentre invece Dante visto che sei tornato qui a fare lo speaker ci racconti un po' questa routine dello spazio? la routine di Samantha Cristoforetti come astronauta si deve tenersi in forma quindi allenandosi più ore al giorno e per mantenere le ossa in forma migliore possibile beve bevande pietanze liofilizzati come cibi essiccati oppure ridotti in polvere cibi ridotti in polvere allora quando parliamo di differenze di genere alle tue compagne quindi alle tue compagne femmine della classe che cosa potremmo dire per aiutarle mano a mano che crescono a dire che possono scegliere di fare quello che vogliono e di realizzare i propri sogni come potremmo incoraggiarle le donne secondo te? che se gli dicono tu devi fare per forza questa cosa tu gli rispondi no perché non è il sogno che volevo fare mettiamo caso io sono donna o non so voglio fare meccanico perché mi piacciono le macchine i miei genitori dicono no perché no perché devi fare questo io rispondo io voglio fare il meccanico perché questo è il mio sogno e tu non puoi impedirmi di fare di di continuare il mio sogno e se lo dicessero anche a te quindi anche se tu sei un maschio se anche a te dicessero no guarda o meglio cosa vuoi fare da grande per esempio io volevo fare lo chef perché guardo ogni volta mia madre che cucina e certe volte chiedo se mi aiutava a insegnare i piatti ecco per esempio se un giorno tua mamma ti dicesse guarda Dante non fare il cuoco fai il medico però a te il medico non piace io gli diresti io gli rispondo di no perché questo è il mio sogno e voglio realizzare il mio sogno di diventare una persona famosa cucinando secondo te siamo vicini in questa società ad essere uguali tra uomini e donne? secondo me quasi però non proprio al 100% abbiamo ancora un po' da lavorarci sì e anche secondo te David abbiamo già raggiunto questa famosa parità di genere? cioè per alcuni aspetti sì per alcuni aspetti no per esempio gli uomini per non so vengono reputati forti e se devi dire un lavoro di forza pensi subito a un uomo per esempio però nel resto tipo dello studio magari le donne non sono cioè sono uguali ai uomini cioè studiano per esempio come i uomini e sai che nel resto del mondo ci sono ancora dei paesi dove per esempio le donne vietato studiare vietato addirittura votare o dire il loro il loro parere quando pensi a questo tu penso che è un'ingiustizia perché addirittura in alcuni paesi fanno coprire il volto alle donne proprio per il volto e il corpo e su me è un'ingiustizia perché comunque quella donna si sposa la maggior parte delle volte con un uomo che non vuole e impedisce pure la libertà cioè è una cosa non giusta e visto che hai parlato di libertà ti chiedo agli occhi tuoi di bambino che cos'è la libertà secondo me la libertà è appunto poter scegliere quello che si vuole cioè a partire da un sogno a partire proprio da realizzare la propria vita cioè la libertà di scelta tipo io voglio fare questa cosa la faccio perché perché voglio nel senso e invece se si toglie diciamo la libertà è quando uno vuole fare una cosa ma si impedisce quindi non si può fare cioè non si fa fare anche tu Dante secondo te sei d'accordo con lui per te cos'è la libertà per me la libertà sarebbe avere la propria opinione su che cosa fare quindi la libertà di scelta e la libertà di fare cose che tu vuoi per me questa è libertà direi che è un ottimo pensiero un bel applauso anche loro grazie continuiamo a parlare del nostro personaggio ci hanno raggiunto Edoardo ed è tornato Umberto Edoardo ci racconti qual è lo stipendio di Samantha Cristoforetti lo stipendio di Samantha Cristoforetti è in media di 32 35 mila euro all'anno Umberto dato che sei tornato più basso più alto di quello di un uomo Purtroppo sì lo stipendio medio di un astronauta è maschio è di circa 70 mila euro e anche un po' di più all'anno E vediamo che ci sono un po' di incongruenze o mi sbaglio? Sì purtroppo sì Secondo te la risolviamo? Questa questa problematica dove gli stipendi sono diversi tra uomini e donne? Ma secondo me sì perché comunque anche ci stanno parlando ci stanno provando però secondo me tra qualche annetto potrebbe anche sentirsi questa questi come possiamo dire questi questi stipendi che vengono aggiudicati pari possiamo dire quindi sono uguali noi prima abbiamo scherzato sul futuro devo dire che hai dato una perfetta dichiarazione da buon futuro quindi un futuro roseo quindi giustamente speriamo che si avveri sarà un po' difficile però ci si lavora anche tu mi raccomando man mano che cresci lavoraci anche in piccola parte su questo allora invece Edoardo c'è qualcosa di Samantha che ti ha accorpito particolarmente della sua vita di quello che ha fatto beh di Samantha Cristoforitti mi ha stupito che ha potuto fare una bella carriera in come posso dire di di astronauta e è riuscito a raggiungere il suo sogno secondo te perché è importante parlarne all'interno di un progetto dedicato alla lotta contro le stereotipi di genere perché secondo me è giusto parlarci di Samantha Cristoforitti perché ognuno può raggiungere il suo sogno studiando tu sei pronto a realizzare il tuo sogno beh ci posso provare cosa vuoi fare da grande non lo so ah beh devi ancora decidere va bene va bene chi gli consiglia il futuro magari che ti dà qualche dritta cosa possiamo consigliare al tuo compagno allora secondo me Edoardo è un bambino che può che può stupire perché dici vedendolo o comunque ascoltando il suo carattere e capendo il suo carattere ma questo qua non farà mai niente non non potrà mai fare niente nella vita però secondo me Edoardo c'è qualcosa che lo rende un bambino che sa quello che vuole fare da grande però cioè che lui non sa cosa vuole fare da grande però qualcun altro secondo me lo può già intuire che cosa può fare però quello è futuro come mi chiamo io futuro bene quindi lui qualche indicazione te l'ha data ti ha fatto anche un bel complimento io magari ti direi l'importante è che rimani con la voglia di combattere per i tuoi ideali per i tuoi sogni senza discriminare nessuno giusto? sì bene un bel applauso anche a voi benissimo è tornato anche David qui ritorniamo in postazione David raccontaci un po' come è nato questo sogno di Samantha Cristoforetti allora il sogno di Samantha Cristoforetti è cominciato tutto già da bambina che sognava di diventare un'astronauta e proprio per questo guardava sulla televisione gli episodi di Star Trek e Space Shuttle e per fortuna con gli studi e comunque lottando il suo sogno si è avverato inoltre Samantha ci racconta anche che durante le sue missioni i suoi colleghi e compresa lei ovviamente portarono anche strumenti musicali racchette da badminton e e lei diciamo sa anche di aver ha anche cucinato la pizza e la lasagna molto curioso direi ascolta abbiamo sentito dai tuoi compagni tante cose tanti pareri secondo te visto che stiamo stiamo utilizzando una radio perché è importante parlare in radio di questo perché una cioè Samantha Cristoforetti è una delle tante donne che comunque hanno avuto successo e proprio per dimostrare non solo a noi a noi bambini di questa scuola ma a più persone a molte più persone che la parità di genere e quindi che le donne possano avere successo e non devono per forza stare a casa per esempio direi che è un ottimo messaggio passiamo il microfono anche a Sofia Sofia tu invece ci racconti un po' di record di Samantha allora Samantha Cristoforetti nel 2009 fu selezionata dall'agenzia spaziale europea fra oltre 8.000 persone un altro record di Samantha è che è stata la prima astronata donna italiana e la terza in Europa da quel giorno Samantha diventò famosissima e nel 2015 ha stabilito un nuovo record europeo e femminile maggior permanenza nello spazio durato 199 giorni nel 2019 è diventata comandante e quindi ha comandato la missione Nemo e il 27 aprile 2022 Samantha ha stabilito un nuovo record per maggiore durata nello spazio la missione si chiama SpaceX Crew 4 che dura 133 giorni insomma un bel po' di record devo dire ascoltami tu come come la vedi la situazione delle donne nella società di oggi tu che sei una ragazza che le donne hanno praticamente gli stessi diritti degli uomini secondo te quindi siamo trattati in modo uguale più o meno cosa potremmo fare dai tuoi occhi di giovane ragazza per cambiarlo questo futuro prima l'abbiamo sentito lui dà dei consigli però cosa potremmo fare per cambiare veramente la società del futuro secondo te che si può cercare di fare qualcosa e tu cosa vuoi fare da grande come lavoro ancora non lo so non lo sai ancora no tu lo sai qui abbiamo Davide che invece lo sa cosa vuoi fare allora io diciamo anche il piano B perché allora innanzitutto come cioè vorrei fare il calciatore anche se ovviamente tutti dicono è difficile è difficile che è la verità però ovviamente insegue il mio sogno e però come piano B non so vorrei fare un lavoro diciamo umile cioè non non strafare ma lavorare e avere come si dice la mia famiglia e come hai visto Sofia qualche qualche idea c'è ascolta Sofia a te chiedo però visto che stiamo parlando di un tema importante come di stereotipi di genere che esempio ti dà per esempio aver studiato Samantha Cristoforetti che lei ha dato tanto impegno a diventare astronauta che c'è che così insomma abbiamo visto che l'impegno è la base di tutto giusto quindi la volta che sceglierai mi raccomando tu mettici tutto l'impegno che ci ha messo lei ok bene un bel applauso bene continuiamo bentornato Alessio qua in postazione Alessio ci racconti come si è sentita Samantha Cristoforetti per la prima volta nello spazio beh le prime sette ore nello spazio è stata molto concentrata nell'uscita dalla navicella che può sembrare facile ma alcuni fattori come la tuta rendeva il tutto più stancante perché appunto la tuta rendeva il tutto più pesante e poi in un'intervista ha raccontato che dopo un po' ci si è abituata poi la sua prima missione è stata di sei mesi cioè 180 giorni e Giulia visto che abbiamo anche lei qui oltre ad essere pilota militare come si è svolta la sua carriera? oltre ad essere ammessa all'accademia aeronautica di Puzzuoli nel 2005 e il 2006 si è specializzata negli USA con il programma aeronato Joint Jet Pilot Training presso la Shepard Air Force base in Texas dove diventa pilota militare e anche a te chiedo c'è qualcosa di Samantha che ti ha colpito in particolare? secondo me sì perché perché una donna a fare così tante cose non te lo immagini secondo te perché è importante parlare in radio oggi? perché ormai una donna può fare cioè come posso dire la donna può fare le cose che potrebbe fare anche un maschio giustamente come abbiamo visto infatti che Samantha l'ha fatto mentre invece Alessio a te chiedo com'è l'esperienza di essere qui in radio? secondo me io sono un po' emozionato perché mi sembra molto figo esprimere le mie opinioni con tutto con tutto con tutta la scuola con tutte le persone le famiglie pensa che nel mondo c'è ancora chi non ha nemmeno questa libertà di poter esprimere il proprio parere quindi abbiamo sentito prima che ci sono ancora tanti luoghi in cui i diritti vengono purtroppo limitati tu che cosa ne pensi sapendo che dall'altra parte del mondo magari ci sono bambini come te che ne possono studiare ne possono parlare dire la loro secondo me questa è una cosa molto ingiusta perché i bambini hanno il diritto allo studio all'esprimere la propria opinione a parlare e riuscire a comunicare tra di loro tra i bambini e fare amicizie perché la scuola oltre allo studio serve anche a creare nuove amicizie hai perfettamente ragione un bel applauso anche a loro grazie bene tornato qui in postazione siamo in conclusione abbiamo qui Manuel facciamo un po' una conclusione legata alla vita di Samantha Cristoforetti quindi ti chiedo che riconoscimenti ha ricevuto allora Samantha Cristoforetti riceve due honoris causan ovvero un titolo di onore dallo Stato per ringraziarla inoltre inoltre Samantha Cristoforetti è stata nominata Cavaliere di Grande Croce della Repubblica e per questa occasione la Mattel ha ricreato Samantha versione Barbie con gadget appositi insomma è diventata proprio un super personaggio ascolta siamo in conclusione quindi direi di fare un ultimo ragionamento su tutto questo progetto voi avete visto uno spettacolo teatrale avete ragionato su Samantha adesso siamo qui a parlarne in radio ci dai qualche tua opinione su tutto questo progetto? secondo me Samantha ha fatto un grandissimo percorso come hanno spiegato anche i miei compagni che è stata molto che ci spiega che anche le donne possono avere un percorso come grandi persone che sono state come degli uomini che sono state anche sulla luna come tutti gli altri insomma non c'è differenza ascolta com'è stata questa esperienza in radio? molto interessante cosa ti è piaciuto di più? il microfono l'HyperX ecco per gli ascoltatori che ovviamente non sanno che cos'è è il microfono con cui io parlo che è quello che si illumina quando si accende per cui l'ho messo sul red rosso perché fa un po' di scena giustamente questo è il beneficio di essere un direttore radio hai capito Manuel? ascolta invece come è stato lavorare con i tuoi compagni molto divertente su questo tema molto divertente avete secondo te avete un'idea più chiara verso il futuro? sì molto più chiara bene allora io direi che visto che siamo in conclusione facciamo un bel applauso a Manuel continuiamo con l'altra parte della classe con il secondo personaggio come vi dicevo all'inizio oggi abbiamo due protagoniste e chiederei subito a Giacomo chi è Maria Sibilla Merian Maria Sibilla Merian è stata una naturalista e pittrice tedesca è considerata una pioniera dell'entomologia è nata a Francoforte sul meno il 2 aprile 1647 ed è morta ad Amsterdam il 13 gennaio 1717 bene mentre invece visto che abbiamo qui anche Lorenzo Lorenzo chiedo di raccontarci un po' come è stata la sua infanzia allora Maria Sibilla Merian nacque a Francoforte il 2 aprile 1697 era la figlia dell'editore e incisore svizzero Matthaus Merian detto il vecchio e della sua seconda molle Giovanna Sibilla Eim e quando Merian aveva solo tre anni il padre morì e poi dopo la madre si sposò con Jacob Marrell e Jacob Marrell era un pittore naturalista e fu lui a scorrere in Merian l'interesse per le piante e il suo talento nel disegno allora gli insegnò i primi rudimenti della pittura d'olio dell'acquerello dell'incisione e poi per darle la più completa istruzione possibile Marrell la voglia nel suo studio tra le fila degli allievi e tutto questo qui era contro la volontà della madre a te cos'è piaciuto di più di questo personaggio? a me mi è piaciuto per tutti i disegni sono molto belli e ci dici che cosa rappresentano i disegni così gli ascoltatori che magari non la conoscono lei rappresenta gli animali tutta la metamorfosi e poi anche le piante come sono fatte e anche a te Giacomo c'è qualcosa che ti ha colpito della sua vita? sì mi ha colpito la sua passione per gli insetti soprattutto le farfalle e che le seguisse cioè le segue anche nella loro evoluzione in tutta l'evoluzione con pazienza e secondo te perché l'avete studiata nell'ambito della parità di genere? secondo me perché di solito i pittori sono quasi sempre maschi come Van Gogh che è stato un grande pittore ma in questo caso una femmina che ha fatto comunque la storia a te ha colpito sapere che è stata una pittrice ed è una donna? sì perché soprattutto per la passione per gli insetti anche a te Lorenzo ha colpito che come ha detto lui visto che i pittori di solito sono uomini a te ha colpito che fosse una donna? sì sì tantissimo perché? è perché anche se anche se era una donna i disegni erano più belli quelli degli uomini ok beh insomma è giusto avere i pareri un bel applauso anche a voi bene adesso abbiamo avuto un cambio come sempre qua in postazione abbiamo Gaia al microfono Gaia a te chiedo di raccontarci un po' quale era la sua grande passione la sua grande passione era la natura Maria Sibilla Meriam da bambina amava raccogliere per le strade di Francoforte bruchi bacchi foglie e fiori osava persino rubare alcuni tulipani dai salotti cittadini per ricopiarne forme e colori passava ora a osservare i bacchi da seta tessere loro bozzoli ma soprattutto era affascinata nell'osservazione nell'osservazione la trasforma nell'osservare la trasformazione dei bruchi in coloratissime farfalle falene aveva anche la passione per la pittura che unì alla passione per gli insetti soprattutto le farfalle e a te visto che sei una ragazza che cosa ti ha insegnato la sua vita? che non conta che sei maschio o sei femmina ma comunque ce la puoi fare e secondo te la nostra società già fa differenze ancora o ci tratta in maniera uguale quindi uomini e donne sono uguali? no cosa potremmo fare per cambiare secondo te? cambiare alcune regole poi per esempio tipo che gli uomini vengono pagati di più e magari lo chiediamo anche ad Alice visto che li diamo anche nel microfono Alice tu invece ci racconti un po' com'è stata la sua vita da adulta? sì nel 1665 nemmeno 18 anni nemmeno 18 anni Marian sposò l'apprendista prediletto di Merlin Joan Andres Graf la coppia si stabilì a Noriberga dove nacquero le loro due figlie Joanna Elena 1668 e Dorotea Maria Henriette 1678 le bambine vennero avviate alla pittura diventando presto esperti illustratrici tanto da affiancare la madre nei suoi successi lavori soprattutto Dorotea che diverrà la principale collaboratrice di Meriam a te ha stupito sapere che ero una donna ed è diventata una grande pittrice sì come ti ha stupito di più che comunque ha proseguito tanto il suo sogno e perché comunque ci vuole impegno a fare questo lavoro e devi essere brava e basta vabbè è già qualcosa è già tanto ascolta tu cosa vuoi fare da grande il carabiniere a cavallo il carabiniere a cavallo è bello divertente e se ti dicessero proprio la tua famiglia ti dicesse o tuo mamma e tuo papà ti dicesse guarda secondo noi non va bene che fai quel lavoro lì è meglio che fai altro no cioè non li ascolterei perché io faccio quello che che mi piace e cioè non farei quello che loro mi dicono di fare di lavoro anche se sono i tuoi genitori sì perché comunque io al lavoro ci devo andare basata cioè che mi piace no che tipo mi sveglio la mattina e dico mamma mia che noia di andare a fare questo lavoro che neanche mi piace in questo momento ci saranno tantissime persone che diranno eh sì potessimo fare quello che vogliamo eh mentre invece chiedo ancora una domandina a Gaia Gaia secondo te qual è la cosa più difficile per una donna per per riuscire a raggiungere i suoi sogni e il giudizio degli altri perché perché a volte può bloccare e secondo te cosa si può fare per contrastarlo questo pregiudizio non ascoltarlo direi che sono ottimi consigli grazie un bel applauso anche a voi bene abbiamo fatto un nuovo cambio abbiamo adesso Andy e Arife Andy hai già il microfono quindi a te chiedo conosciamo delle opere di Maria Sibilla Maria Sibilla Merian nel 1675 iniziò a pubblicare una serie di dipinti botanici compose infatti tre volumi con tavole raffiguranti fiori o anche insetti tra i fiori Merian fu una dei primi naturalisti ad osservare gli insetti direttamente raccolse e osservò gli insetti vivi e creò disegni dettagliati ai suoi tempi i vermi erano ritenuti ancora come vestie di sattina e il processo di metamorfosi non era ancora conosciuto nel 1699 Merian si ricò nel suriname olandese per studiare e registrare gli insetti tropicali a te cosa ha colpito di lei? a me mi hanno colpito molto le sue opere perché come racconta sono molto dettagliate e anche della metamorfosi mai ti ha colpito? perché anche a me di solito piacciono molto gli insetti e gli animaletti e mi hanno colpito secondo te può essere un esempio anche per le tue compagnie di classe la sua vita? secondo me può anche essere perché a parte i vermi la sua vita di lavoro era nel viaggiare e quindi osservare nuove specie di insetti quindi insomma si è fatta si è data da fare Arife passiamo il microfono anche a lei tu ci racconti invece perché è una donna famosa? Maria Sibilla Meriam fu la prima scienziata che studiò gli insetti in particolare le farfalle e la metamorfosi Meriam scoprì tutta la serie di specie animali e vegetali del tutto sconosciuto in Europa studiandole e rappresentandole nei dettagli creò la prima classificazione per tutti gli insetti che si sviluppano dalla crisalide le farfalle diurne e notturne secondo te al di là degli insetti perché è stato importante studiarla la sua vita? perché secondo me è una donna forte e per me fa due lavori la pittrice e la scienziata ti ha stupito che fare due lavori che tendenzialmente sono attributi agli uomini? in realtà no perché comunque il lavoro è uguale sia per le donne sia per gli uomini non ha differenza secondo te come ho già chiesto la società di oggi tratta già in maniera uguale le persone? sì e no perché magari alcuni possono essere rispettivi nelle donne e altri meno secondo te parlarne è importante di questo tema? sì secondo me anche molto perché possiamo migliorare il nostro futuro bene un bel applauso anche per voi grazie bene noi continuiamo a parlare abbiamo avuto un altro cambio diamo subito il microfono a Giorgia e Giorgia tu ci racconti un po' se Maria Sibilla era viaggiato? il paese in cui sta di più è stato il Suriname però in quel tempo andare al Suriname era rischioso e costoso a te è piaciuto studiare questo personaggio? sì dai abbastanza perché alla fine è un po' bizzarra lei c'è un po' ma è bizzarra? non lo so cioè ha dato quella impressione un po' di artista un po' bizzarra che cioè esprime allegria come eh insomma è una cosa molto molto positiva e ascolta te c'è un quadro che ti ha colpito in particolare? il suo? ehm sì tipo quello delle farfalle dove ci sono le farfalle e perché ti ha colpito? perché le farfalle esprimono libertà cioè esprimono libertà hai visto che hai detto la libertà a questo punto ti chiederei per te che cos'è la libertà per me la libertà è quando tipo un giorno vuoi fare una pazzia e la fai senza che nessuno ti giudichi cioè tu devi essere quello che sei non devi ascoltare gli altri e a te che cosa ha insegnato studiare la vita di una donna nell'ambito degli stereotipi di genere? libertà e cioè fare quello che gli pare cioè mi ha impressionato perché comunque lei fa tutto quello che gli pare si esprime come vuole e non ha paura dei pregiudizi invece io ho tanta paura come mai paura? non lo so pure di essere giudicata da qualcuno perché cioè tante volte ci sono alcune persone che non sono proprio brave nei miei confronti e quindi cioè ho paura e secondo te che cosa puoi fare per avere più coraggio? l'autostima cioè devo avere tanta autostima quella che io non ho però cioè dovrei affrontare in qualche modo questa cosa però non so se ci riesco secondo me iniziare già magari a prendere esempio e spunto da da ciò che hanno fatto i due personaggi che avete studiato potrebbe essere no? già un primo passo Daniel visto che sei anche tu qui con noi che cosa potremmo dire di incoraggiamento alla tua compagna Giorgia per fargli avere più coraggio tu che sei proprio un ometto che sta crescendo come potremmo incoraggiare le tue compagnie di classe o tutte le altre bambine che ci ascoltano se magari sono un po' come Giorgia che hanno paura del pregiudizio dobbiamo fargli coraggio allora secondo me quando una persona ti giudica e ti dice che non sei adatto a quel lavoro basta che bisogna ignorarle e continuare sulla propria strada beh è un bel consiglio no Giorgia allora Daniel invece torniamo anche adesso a parlare un po' di Maria Sibilla tu ci racconti un po' come erano le sue tecniche di pittura certo allora lei disegnava quella pittura ad olio su un foglio di carta che ha imparato dal suo patrigno a te è piaciuto studiare la sua vita abbastanza perché l'ossessione per gli insetti non è una cosa per tutte le femmine perché la maggior parte della ragazza hanno paura degli insetti è vero mi hai davanti uno se c'è un insetto io scappo dall'altra parte ascolta che esempio può dare secondo te la sua vita secondo me il suo esempio è spronare i propri talenti e non aver paura dei propri sogni secondo te per le ragazze hai delle compagnie di classe per loro è difficile crescere in questa società dove sono ancora un po' discriminate secondo me abbastanza perché ci sono molti uomini che costringono con la violenza le donne a stare a casa a occuparsi di tutto e quindi abbiamo ancora un po' di lavoro da fare mi sa bene facciamo un bel applauso anche a loro continuiamo è tornata Giulia quindi Giulia doppio personaggio hai fatto Samantha Cristoforetti adesso ci parli invece delle scoperte che ha fatto Maria Sibilla cosa ci racconti? allora Maria Sibilla Maria fu la prima scienziata che studiò gli insetti in particolare le farfalle e la metamorfosi e mentre invece pensando alla sua vita cosa ti è piaciuto di più studiare di lei? allora a me di lei mi è piaciuto perché proprio come carattere perché tipo cioè non ti può venire in mente così da nulla voglio studiare le farfalle e cioè è molto interessante conoscere la sua storia tu che cosa dovresti studiare nella vita? lei ha studiato gli insetti perché aveva questa curiosità tu invece che curiosità hai? che cos'è che vuoi studiare? allora io quando sarò un po' più grande vorrei studiare vorrei entrare in un modo di sport in un mondo di sport e tipo vorrei aprire un appunto un negozio che ogni ragazzino ci può andare e fare quello che vuole tipo un tipo un'azienda che puoi fare sport calcio tennis tutte queste cose secondo te come donna sarà difficile realizzare questo sogno? allora come donna penso di sì però con una mano ce la puoi fare lei ti può servire da esempio la la nostra protagonista di oggi? sì come esempio sì perché è stata molto molto forte e molto come posso dire ragionevole direi che è un buon esempio passiamo al microfono anche a Melissa che è qua con noi Melissa ci racconti invece tu qualcosa di che cosa veniva rappresentato nei suoi disegni? lei disegnava la metamorfosi degli animali e delle piante e te ha colpito qualche suo disegno in particolare? sì molto quello delle farfalle aveva di così particolare raccontiamolo un po' gli ascoltatori che non ce l'hanno sotto gli occhi in questo momento è il suo modo di come disegna e di come appassionata degli animali e tu che passione hai? io del calcio soprattutto per la Juventus ma vuoi fare la calciatrice da grande? no però sono appassionata e da grande invece cosa vuoi fare? qual è il tuo lavoro ideale? allora di preciso non lo so però la barrista la barrista è impegnativo e se proprio la tua famiglia come ho già chiesto a qualche tuo compagno i tuoi genitori un giorno ti dicessero guarda secondo noi non va bene che fai la barrista è meglio che fai la mamma oppure fai un altro tipo di lavoro fai la maestra piuttosto che qualche altro cosa le diresti? allora ai miei genitori direi di no perché mi piace come il lavoro insomma deve piacere a me non a loro secondo te le donne nella società di oggi hanno libertà di scegliere? sì secondo me sì non essere libere e per te cos'è la libertà? fare ciò che si vuole e non essere comandati bene io direi di fare un bel applauso anche per loro continuiamo nel mentre stanno anche facendo un trasloco sopra di noi come sentirete ma noi abbiamo qua le nostre speaker che riusciamo lo stesso a sentire Melissa si è fermata qui con noi perché adesso io sono curiosa Melissa ci racconti visto che parlavamo prima di disegni che colori predominano nei suoi disegni predomina il verde che rappresenta le foglie il giallo spesso rappresentava le ali delle farfalle insomma dei colori belli accesi quelli della natura allora io passerai il microfono anche ad Alice che ci ha raggiunto Alice ci dici qual è il suo disegno più famoso? Meriam divenne famosa attraverso la pubblicazione del suo opus magnum esatto che infatti è chiamato proprio il metamorfosis insectorum surinamensium ci racconti quest'opera? quest'opera era una raccolta di incisioni sul rame e descrizioni dei cicli di vita degli insetti ma stiamo conoscendo tantissime cose su Meriam io passerei il microfono in finale anche ad Aurora Aurora tu ci racconti una delle sue citazioni più famose? che in italiano significa arte e natura lotteranno sempre fino a conquistarsi a vicenda così che la vittoria è il nome stalker e line cioè che è conquistato vincere allo stesso tempo insomma abbiamo visto quanto è importante per lei lei vive davvero per la natura nei suoi quadri a te cos'è piaciuto di questo personaggio contestualizzato proprio contro gli stereotipi di genere? a me è piaciuto che anche essendo donna e a quel tempo era difficile è riuscita ad andare fino in Suriname per osservare gli insetti che a quel tempo sembrava quasi una cosa impossibile per una donna e questo che cosa ti ha insegnato? mi ha insegnato che ognuna di noi può fare ciò che desidera senza ascoltare pregiudizi e secondo te perché oggi abbiamo deciso di parlarne in radio? in modo che tutte le persone che ci ascoltano possono anche loro capire che a volte non è giusto fare pregiudizi e secondo te riusciremo a cambiarla la società su questo? secondo me magari non immediatamente però tra qualche anno sì ma in un futuro rosio com'è questa esperienza qua in radio oggi? è figo sta in radio che cos'è che vi è piaciuto di più? parla ai microponi poi pensa che ci ascolteranno le persone e ne abbiamo qualche migliaio che ti ascolteranno quindi bene facciamo un bel applauso anche loro ed eccoci qua in chiusura come dicevo oggi abbiamo superato l'ora di puntata ma è stata comunque come avete sentito interessantissima e queste ragazze hanno dato veramente degli spunti interessanti poi soprattutto con il personaggio di Maria Sibilla Merian diciamo che abbiamo rappresentato davvero un esempio nella lotta contro le stereotipi di genere in particolare proprio perché nella sua epoca le donne erano largamente esclusa direi dal mondo scientifico ed accademico teniamo presente quindi 1647 una donna come Merian che si distingue come naturalista come esploratrice e illustratrice scientifica in un tempo in cui ripeto tali campi erano dominati esclusivamente dagli uomini dai ragazzi abbiamo sentito che nonostante le difficoltà si riesce Merian in questo caso riesce ad ottenere un riconoscimento grazie alla sua dedizione al suo talento e questo insomma diventa un esempio anche ai giorni nostri la sua opera più nota è stata pubblicata io l'ho apprezzata molto anche perché documentava proprio con dettagli senza precedenti la vita degli insetti tropicali del Suriname io l'ho sempre apprezzata per la dimostrazione del suo rigore scientifico proprio perché sfidava tutte quelle che erano le convenzioni del suo tempo ciò non toglie che poi le illustrazioni che combinavano arte e scienza furono diciamo fondamentali per la comprensione della metamorfosi proprio degli insetti che insomma un fenomeno che fino ad allora era pochissimo conosciuto in Europa io direi che insomma attraverso il racconto dei ragazzi abbiamo capito che ci sono donne che non solo infransero le barriere di genere nella scienza ma sfidarono proprio anche tutte quelle norme sociali delle loro epoche che viaggiando lei per esempio ha viaggiato in Suriname per condurre proprio le ricerche sul campo quindi un'impresa all'epoca straordinaria per una donna se pensiamo del XVII secolo la sua vita e il suo lavoro hanno dimostrato attraverso le parole e delle interviste che le donne possiedono le capacità e la determinazione necessarie per eccellere davvero in campi tradizionalmente riservati agli uomini credo che la sua eredità possa continuare a ispirare e vorrei anche che incoraggiasse le giovani donne che abbiamo sentito poco fa a perseguire le loro carriere magari anche qualcuno, chi lo sa, un futuro avrà nella scienza ma soprattutto superare tutti gli stereotipi di genere io direi in sintesi e in conclusione che Maria Sibilla Merian è stata veramente un ottimo esempio quindi complimenti ragazzi per averla portato in puntata un esempio potente direi di come passione, determinazione e talento davvero possono superare le famose barriere di genere offrendo davvero un modello di ispirazione per quelle che saranno chiaramente le generazioni future e davvero contribuiscono in modo significativo a rendere onore a questo progetto che si occupa proprio di lotta contro gli stereotipi di genere bene, io adesso direi che posso lasciarvi per l'ora di pranzo in questa bella domenica noi ci ritroviamo tra qualche ora alle 19 resteremo a Capalbio in una doppia puntata perché avremo la classe primaria e poi ci trasferiamo virtualmente a Capalbio Scalo quindi faremo doppia puntatina anche quest'oggi e poi proseguiremo in settimana con l'ultima settimana di puntate vi ricordo come sempre che tutte le differite di queste puntate vengono caricate sul nostro canale YouTube basta cercare su YouTube Radio Norbo Reali se ci trovate mi raccomando iscrizione e clic sulla campanella così non vi perdete tutte le ultime puntate io vi auguro una splendida domenica e adesso come sempre e come rito vuole i saluti dei ragazzi e poi noi ci troviamo qua alle 19 bene allora adesso noi come sempre facciamo il saluto finale facciamo gridare ai nostri ragazzi il saluto finale agli ascoltatori con il grido liberatorio di Tana Libero Tutte Tana Libero Tutte grazie 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 grazie